Amore di Gesù per la Chiesa Figlia mia, in questo giorno della Pentecoste, vorrei farti comprendere il grande amore del cuore di Gesù per la Chiesa, opera uscita dalla mente e dal cuore di Dio per la salvezza degli uomini. Essa è la celeste Gerusalemme che Giovanni contemplava nell'Apocalisse, contro cui le arti del Dragone Rosso si scagliavano per distruggerla. È la candida sposa di Cristo, destinata a dargli tanti figli quante le stelle del cielo o i grani d'arena del mare. È la sua figlia prediletta, cara a lui, come la pupilla dei suoi occhi. Essa è irrorata dal suo sangue e continuamente bagnata dal sangue dei martiri, che rinnovano la sua giovinezza e il suo candore. Le insidie del diavolo tendono a dividere e ad infangare il suo candido vestito di sposa di Cristo, e il suo vessillo, la fede, a demolire la carità di cui lo Spirito Santo la anima, ma non vi riusciranno, anzi, tale opera deleteria non farà che suscitare nuove forze, nuovi germogli, nuovo bene. La Pentecoste odierna trovi i vostri cuori fiduciosi e pieni di speranza. Davanti al male che si propaga, opponete la pratica della virtù. Davanti ai numerosi apostati, ravvivate la vostra fede ed amate la Chiesa. Ciascuno di voi è una pietra viva di quell'immenso edificio, e lo stesso spirito d'amore che anima tutto il corpo deve animare le singole membra. Il fuoco divoratore dello Spirito Santo distrugga in voi tutto ciò che è difettoso, e diffonda l'abbondanza della vita divina. L'amore del mio Gesù trovi in voi una risonanza continua, e vi infonda quell'ardore di apostolato che vi consenta di dire, lo zelo della tua casa mi divora. Casa di Dio, porta del cielo, la Chiesa reclama l'opera dei Suoi figli, il loro amore, la loro difesa. Se capirai i segreti del cuore del mio Gesù, così da viverli, capirai il suo amore infinito per la Chiesa, e lo farai tuo. Non ti sarà difficile metterti a sua disposizione come un soldato di fronte agli ordini del suo Capitano. Pronta nell'obbedienza, lo sarai anche nell'offerta di tutte le tue forze, della tua vita per il trionfo del Regno, che essa annuncia. Ti benedico con tutta la Chiesa.